Un nuovo e importante partner al fianco della Pallavolo Macerata, a sostenere la società maceratese anche una realtà solida e consolidata nel territorio come quella di Banca Macerata. L'istituto sarà al fianco della società Bianco Verde dando anche il nome insieme a Mengi Shoes, alla squadra che sarà in aste di partenza della prossima stagione in Serie A2. La squadra si chiamerà quindi Banca Macerata Mengi Shoes. Gianluca Titarelli, vicepresidente della Pallavolo Macerata, ha sottolineato quanto sia motivo di orgoglio e di vanto avere al proprio fianco un partner di tale portata. Visibilmente soddisfatto il presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini, il quale ha rimarcato che la missione dell'istituto di credito è quella di contribuire al successo delle iniziative meritevoli e quindi di essere vicini alle migliori realtà del territorio. Anche il direttore generale di Banca Macerata, Rodolfo Zucchini, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo connubio, con la certezza che la squadra saprà farsi sicuramente valere.